adesso si fermiamo un attimo qua riposiamo ha fatto un bel giro si è fatto poi un po' ripartimo torniamo dai bravo lui te vedi già mezzo giro in pista ciclabie e si fanca di più di mezzo dopo per carità non sarà più che ho lì che era sempre iperattivo qualche anno fa però te vedi che c'è è ancora molto carico te vedi ecco c'è dopo non so sarà il tonno il fuster il sgombro sarà sta roba che darà carica boh non so c'è il pometto non mi faccio fare una dieta a variegare qui va sarà sta roba che darà carica e se arriva il semo vediamo che riparte schifo intorno tutte tutte robe gli butta a partire robin a stare attenti mi sta autento anche per lui però te vedi o no la gente ha i tratte strade come se fosse il loro il loro il loro cestino di casa il loro cattolino di casa il loro cattolino di casa